Prima attenzione in Basilicata nel Terzo Polo con i rappresentanti di Italia Viva e azione su posizioni diverse rispetto alla surroga di due consiglieri regionali di maggioranza di Forza Italia di missionari dopo il coinvolgimento nell'inchiesta sulla sanità lucana. Lo scorso 21 d'ottobre la mancanza del numero legale causata anche dall'uscita dall'Aula delle Forze di Opposizione, tra cui i consiglieri di Italia Viva Luca Braia e Mario Polese, ha interrotto i lavori prima della votazione sulla surroga dei due consiglieri azzurri di missionari Francesco Piro e Francesco Cuparo. Ieri, in una nota Italia Viva, ha annunciato che nella prossima seduta del Consiglio Braia e Polese voteranno la surroga. Stamani, in un comunicato, il segretario regionale di azione Donato Pessolano è invece evidenziato che la scelta di comunicare il voto favorevole all'aderoga dei consiglieri non è stata discussa con i vertici regionali di azione componente centrale del Terzo Polo, un atto unilaterale che dovrà essere affrontato anche a livello nazionale, dicono. Nelle scorse elezioni politiche, dopo aver lasciato il PD, è stato candidato con il Terzo Polo in quotazione senza essere eletto l'ex governatore lucano Marcello Pittella, attualmente consigliere regionale. Anche Pittella è iscritto nel gruppo consigliare Prospettive Lucane. Lo scorso 21 ottobre ha lasciato l'Aula prima del voto sulla surroga, ma per ora non ha ancora comunicato la sua decisione per la prossima seduta, in programma il 4 novembre. E stamani l'altro consigliere di Prospettive Lucane, Carlo Trerotola, candidato governatore della centrosinistra alle regionali del 2019, ha annunciato che non parteciperà alla prossima seduta in modo tale che non venga computato nel numero legale e che da parte sua non ci sarà alcun soccorso alla maggioranza. Per sgomberare il campo da strumentalizzazioni che servono solo ad allontanare le persone dalla politica, e preferendo i fatti alle parole abbiamo appena preparato una mozione di sfiducia nei confronti del governo retto da questa maggioranza di centrodestra. Lo hanno annunciato in una nota congiunta ai consiglieri regionali lucani di Tagliaviva, Braia e Polese, i quali hanno evidenziato che restano consiglieri di opposizione. Noi hanno aggiunto, riteniamo che confondere la politica con obblighi tecnici, peraltro giuridicamente esponibili a sanzioni, sia sbagliato. Per questo insistiamo su un principio, la surruca dei consiglieri Piro e Cupero di Forza Italia serve per ristabilire con un atto giuridico la funzionalità della massima assemblea legislativa regionale e le sue commissioni. Braia e Polese hanno infine ricordato che nessuno ha la golden share del terzo polo. Anche noi ci saremmo aspettati fosse composto da un gruppo unico in consiglio regionale, ma siamo abituati a rispettare le decisioni altrui. Per questo ci auguriamo che si torni a discutere di politica perché il terzo polo, o meglio il Regno Italia, è un progetto unitario che non merita spaccature o personalismi per una politica che, hanno concluso, torni ad occuparsi di merito e non di pettegolezzo.